Catanzaro per me è la sorpresa, l'ho definita quando mi chiedono sempre a fine anno cosa penso perché è arrivata dalla Cido con un percorso importante, stravincendo un campionato, ha dimostrato questa attitudine e queste caratteristiche e saperla portare anche in una categoria diversa, è in zona playoff, dunque sta facendo un campionato di livello, come sempre questo è un campionato molto equilibrato ed è una squadra che spesso ha vinto e ha alternato sconfitte. Sull'equilibrio generale diciamo che non è la partita proprio giusta perché è una squadra che fa gol e noi abbiamo dimostrato di farne ma anche di subirne, dunque mi aspetto oggettivamente una partita dove le due squadre proveranno a giocare, proveranno a superarsi e noi su questa attenzione, su quel qualcosa in più su cui abbiamo lavorato possiamo fare la differenza e questo è quello che ho detto l'altra volta e che non mollerò un centimetro su questo, dobbiamo andare a cercare. Dunque quell'attenzione, quel donare qualcosa, quel sacrificio in più che un giocatore deve fare perché quando poi la palla la andiamo a riprendere insieme abbiamo qualità per andare a far male l'avversario, dunque questa è una partita dove una squadra coraggiosa che gioca come il Catanzaro, una predisposizione al lavoro, al sacrificio, a fare una grande fase di non possesso potrà fare la differenza sull'esito finale della partita. Ma io penso che sole le richieste che ha avuto fanno capire che tanti pensano che possa fare il titolare e dunque l'ha certificato il mercato per le tante richieste che ha avuto, capisco anche il ragazzo che giustamente ha avuto bisogno di valutare tante situazioni, ma sapete ed è prima ancora che arrivassi io qui quanto è legato a questo ambiente, quanto ha fatto bene, dunque non è un tredicesimo, è un titolare che si trova davanti il nostro capitano in un sistema di gioco che privilegia una punta centrale, ma dove dentro le partite spesso si possono giocare con due attaccanti, ma il futuro di Edo sicuramente lo vedo come un titolare perché ha tutte le caratteristiche, deve continuare il suo percorso di crescita, vedergli fare quel taglio e quel gol certifica che un lavoro fatto in un certo modo fa riconoscere situazioni e sicuramente per una risorsa molto importante.